Siamo in tre, non in due, adesso pian pianino si collegherà la gente, quindi noi iniziamo a parlare. Se volevi condividere puoi condividere adesso se riesci, così chi viene anche dalla pagina di qualcosa di Blu Trieste riesce a vedere la nostra diretta. Allora, secondo appuntamento in cui parliamo di matrimonio, oggi parliamo nello specifico di abiti da sposa, sarà una chiacchierata tra formitori e amici che così si può discutere di questo periodo, ci sono arrivate tante domande negli scorsi giorni, quindi sicuramente avremo di che parlare. Sì, grazie a tutte le spose anzi che hanno mandato le loro domande, qualcuna proiettata al 2021 in relax e qualcuna molto in ansia perché giustamente aveva il matrimonio programmato a breve, quindi risponderemo un po' a tutte insomma. Sì, e poi c'era anche una domanda che è venuta fuori l'altro ieri nella chat che era un po' in wedding talk, che era un po' ironica forse quella su se ingrasso con questa quarantena cosa succede, che comunque la mettiamo dentro e la infiocchettiamo un più meglio senza l'ironia. E togliamo in sé, perché se ingrassiamo tutti. È sicuro, stiamo ingrassando tutti. Non so voi, ma oggi guardavo quanto lievito ho comprato, mi viene male quanto lievito ero io. Beato te che l'hai trovato. So che è brutto, ma ho anche una ferita da forno qua, da teglia da forno, che mi sto dedicando alla cucina in ricette assurde. Bene, questo non succede perché non so cucinare, perciò sono salva, salva dai danni da forno. Allora, vi invitate perché? Perché se si parla a Trieste, ma non solo a Trieste, di abiti da sposa, diciamo che il riferimento, soprattutto per tutto il frio di Venezia Giulia, è senza dubbio qualcosa di blu. Quindi, siamo qua. Mi raccontate brevemente, diciamo, cosa fate, anche se si può immaginare, ma anche da quanto. Beh, noi siamo aperti da 15 anni, ormai, sono tanti, sono volati. Io ho aperto il mio primo negozio alla fine del 2005 e poi negli anni si è evoluto un po' il tutto, siamo passati da un monomarca a un multimarca, abbiamo poi aperto di recente anche un negozio da cerimonia, qualcosa di Blue Party. Perciò abbiamo un po' implementato quella che era la nostra offerta. Ci siamo specializzati in questi anni, soprattutto nella sposa. La sposa è il nostro, così, il nostro cuore, è la nostra passione, è quello che ci piace fare e lo facciamo da tantissimi anni con grande, grande entusiasmo, cercando di evolverci ogni anno. Ci mettiamo sempre cose nuove, mettiamo sempre marchi nuovi all'interno dell'assortimento. Non ci piace stare fermi, vogliamo dare sempre un'offerta moderna e aggiornata. Ok, a me piace un sacco quando vedo su Instagram tutte queste spose che sono contente, il Cudi Bride, no? Come si chiama? Sì, il Cudi Bride. Cudi Bride, ok. Bellissimo, bellissimo. Mi piace un sacco perché vedere questi sorrisi anche è bello. Cosa fate in questo periodo di quarantena? Beh, come? Le mamme. Le cucine. Io sto sfornando un po' di tutto. Pane, pizza, panzerotti, quello che vuoi. Io tormento Cinzia perché andando a cucinare, come dicevo prima, le faccio fare da cuoco a distanza, mi aiuta ad imparare un pochino, perciò continuo a mandarci Whatsapp. Che facciamo le dirette, ci manchiamo, è la verità. È vero, ci manchiamo tanto e così come ci mancano anche le nostre spose. Io rispondo quotidianamente a tutte le ragazze che mandano domande anche via mail o su Messenger per sapere appunto cosa accadrà ai loro abiti, alle loro nozze. Quindi sono sempre in contatto con le spose. Intanto saluto Gloria e Giulia. Sì, Gloria che era la wedding planner che ha fatto la diretta mercoledì. Complimenti. E invece Giulia è una futura sposa immagino, no? Sì, no, è una sposa di un paio di anni fa. Ok, ok. Io non le vedo, quindi aggiornatemi voi. Va bene, ok. Se vuoi vedere i commenti, guarda sul computer, su Public, no? Che abbiamo questa applicazione. Ah sì, sì, lo vedo, lo vedo. Ok, ok, benissimo. Super, ok, ci siamo. Ah Giulia, ciao Giulia. Bene, bene, allora, diciamo che ci sono arrivate tante domande, adesso guarderò il telefono perché me le sono segnate lì, non voglio fare il caffone ma guarderò da qui che mi è più semplice. Ce ne sono un sacco, ok? Allora, innanzitutto cosa si fa con l'abito se le nozze vengono rimandate? Beh, dipende un po' a quando vengono rimandate. In linea di massima le spose finora hanno rimandato entro l'anno, quasi tutte. Chi doveva sposarsi ad aprile e maggio ovviamente ha dovuto disdire e stanno cercando di riorganizzare le nozze, se possibile, per luglio, settembre, ottobre, qualcosina, i primi di ottobre. In quel caso alla riapertura ci sentiremo con le ragazze e riorganizzeremo le prove di sartoria, le riprenderemo perché alcune sono state naturalmente già fatte, anzi gli abiti erano quasi pronti per le spose di aprile e maggio. Ci rivedremo, riproveremo i vestiti e li terremo noi fino alla nuova data. Per le spose invece che rimanderanno al 2021 dovremo accordarci per valutare insieme appunto cosa fare, se le prove non erano ancora state avviate, naturalmente sospenderemo tutto e ci sentiremo poi per vedere, di vedersi nel 2021, tre mesi prima delle nozze e ricominciare il percorso. Poi dai, un anno vola, perciò non sarà un'attesa così lunga. Ok, qua c'era anche un'altra domanda molto simile in realtà, ma aveva già una data. Mi sposo il 20 giugno, il mio vestito sarà pronto per quella data? Sì, per forza, noi siamo pronti, no? Qualsiasi cosa succeda, le sarte lavorano, quindi ci mettiamo sotto, anche se dobbiamo aprire dieci giorni prima l'abito sarà pronto se la sposa tiene la sua data. Forza di lavorare la notte, lo sappiamo che sarà così, siamo pronti. Ok, poi, per un matrimonio a maggio 2021, sono domande proprio diciamo già con date eccetera, quando bisogna venire per scegliere l'abito? Beh, per sceglierlo noi consigliamo sempre di venire dai sei e nove mesi prima rispetto alle nozze. I sei mesi sono quasi un po' tiratini, nove mesi sarebbero l'ideale. Qualcuna viene anche un anno prima, va benissimo. Il periodo ideale comunque è intorno ad agosto-settembre, se la ragazza che si sposa nel 2021 vuole una collezione 2021. Perché noi riceviamo tutte le collezioni nuove per l'anno successivo tra giugno e settembre. Sicuramente a settembre c'è il massimo dell'assortimento, perciò venendo settembre, ottobre, in quei mesi autunnali, si può avere più scelta rispetto ad altri periodi dell'anno. Sai che ho notato una cosa, una volta il primo fornitore da scegliere era la chiesa giustamente, o il comune quello che era, e la villa e poi veniva il fotografo. Adesso ci sono tante spose che vengono qui, solo le spose, gli sposi ovviamente no, ma vengono un anno prima con già l'abito scelto. Quindi ho visto che negli ultimi anni si sono allungate molto, cioè non si sono allungate, si sono prese molto di più per tempo queste scelte. Quindi è bello perché vedono quanto importante è anche un abito. Eh sì, è un po' il fulcro alla fine, no? L'abito, cioè c'è poco da dire, la sposa è la regina del matrimonio. Mi dispiace per gli sposi, ma è così. Giro un po' tutto là intorno. Quindi tante anche dicono parto con l'idea dell'abito, vedo che stile l'abito mi regala e poi mi ci creo tutto un matrimonio intorno. Ok, infatti io quando mostro i preparativi ci sono tanti sposi che dicono io non voglio i preparativi del fotografo, non voglio il fotografo a casa mia, la sposa sì perché ha tutto un entourage che il primo è l'abito, cioè dopo c'è il trucco, la conciatura, le damigelle eccetera 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 però io mostro anche l'importanza ovviamente dello sposo anche perché devo difendere la categoria, no? È vero. Poi lo sposo ci vuole. Sì, infatti, infatti. Non sono ancora disponibili le comparse. Sì, sì, sì. Poi tra l'altro è anche importantissimo perché non si pensa, ma i preparativi sono l'unico momento della giornata in cui gli sposi non sono insieme. È vero. Quindi di base perché fare le fotografie solamente a casa della sposa? No, è vero, è un ricordo di entrambi. Esatto, perché altrimenti lo sposo vede cosa è successo alla sposa ma non viceversa. Ovvio che lo sposo non avrà il trucco, la conciatura, però comunque c'è una vestizione. Sì, poi sai c'è anche, ci sono le emozioni, la mamma e il papà, il fratello, di quello sposo che lo aiutano. Io ad esempio mi ricordo benissimo le nozze di mio fratello, ero giovanissima e lui quando si è sposato si è vestito a casa e ricordo ancora quella mattina il dilemma, tengo la barba o la tolgo. Però sono momenti comunque emozionanti, belli per la famiglia, bisogna immortalarli sia che si tratti della sposa che si tratti invece dello sposo. Io ad esempio non ho fatto dei miei preparativi, all'epoca sono stata così un po', non ci ho pensato e mi sono pentita moltissimo, veramente molto, perché mi manca quella parte di ricordo. E ci pensavo proprio in questi giorni, guarda, peccato. Sì, io guarda, del mio matrimonio, che tra l'altro Francesca, mia moglie, è venuta a prendere l'abito da voi, è bellissimo vedere, anche perché mi rivivo le emozioni, cioè non riuscivo a... ho dovuto fare il nodo alla cintura, ok? L'esco, non il nodo alla cintura, il buco alla cintura, stavo pensando al nodo della cravatta, ho detto... Quindi è bella questa cosa, mi piace un sacco l'idea di avere questi ricordi. Torniamo a noi! Allora, questo in realtà l'hai già risposto, perché le collezioni del 2021 quando arrivano in negozio, abbiamo già detto, no? Settembre, giusto? Sì, tra giugno e settembre, più o meno. Giugno ci sono le preview di anticipi e poi c'è il completamento a settembre. E questa è una domanda che tra l'altro, se non arrivava, l'avrei fatta io. Quali abiti vanno di più ora come stile? Vado io? Vai! Allora, sicuramente il glitter. Glitter come se piovesse, c'è luce ovunque, sulle gonne, le code lunghissime, luminose, corpetti sfavillanti, proprio abiti da principessa. E poi c'è l'esatto opposto, il super minimal con tessuti importanti, quindi abiti di gran classe che piacciono un sacco alle mamme, abiti un po' di una volta, con scoglia barchetta, però vediamo delle schiene magari un po' aperte per dargli un tocco di modernità. Anche qui code molto importanti, tessuti come il micado, quindi tessuti che hanno molta struttura. Diciamo che sono due stili completamente opposti, però che vanno di pari passo. E poi c'è sempre il minimal, per chi ha un gran fisico, il minimal in cadì, quindi tutto attillato. E poi il classico principessa, ampi, compito, quelli sono intramontabili. C'è sicuramente una sposa molto protagonista, molto diva. Infatti la nuova collezione 2021 di Pronovias, che è appena stata pubblicata adesso sul loro sito, fa vedere proprio una sposa hollywoodiana. Sia che l'abito sia minimale, pulito oppure importante, la sposa è comunque importante, è diva, è protagonista ora più che mai. E questa è una cosa molto bella, perché effettivamente le ragazze hanno voglia di vivere quel giorno come il giorno più importante della loro vita. Eh sì. Sono una favola. Poi, collegata anche a questa, si usa ancora il velo? Sì, sì, sì. Adesso va tantissimo di moda. Non ha mai smesso di andare di moda. Forse negli anni 90, ecco, c'è stato questo boom di minimalismo assoluto. Però il velo adesso è uno degli accessori più amati. Sicuramente che sia lungo, col pizzo, oppure più corto, col taglio a vivo, semplicissimo. E la ciliegina sulla torta, dico io. Perché veramente ci sono degli abiti che con il velo vengono completati nel modo migliore. Qualche volta, magari i ragazzi sono nel dubbio, però una volta indossato, lì scatta la lacrima. Eh sì, sì. Dà il tocco in più, c'è da sfatare un mito, si usa il velo anche in comune. Quindi anche per le cerimonie civili. Sì, magari più semplice, ecco, senza troppi pizzi, non troppo lungo, però si utilizza. L'importante è che la sposa se lo senta. Quando la sposa ha voglia di indossarlo, che lo metta pure. Tra l'altro, per il velo bisogna avere anche delle acconciatrici, acconciatori, diciamo, che sappiano anche renderlo, diciamo, parte integrante del look della sposa, e non, diciamo, una cosa che fai un'acconciatura pazzesca e dopo vai a coprirlo. Io ho visto grandi differenze in questo e magari ne parlerò con Federica Miani prossima settimana, in cui mercoledì parleremo appunto del trucco e dell'acconciatura. Poi, sempre sul velo, ma il doppio velo, quello che va anche davanti? Sì, però quello in chiesa, quello esclusivamente per la chiesa, sì. E quello è super emozionante, soprattutto per i papà che accompagnano queste figlie velate fino all'altare, là veramente piangono tutti. C'è una postilla, diciamo, che non si va a pensare, ma ovviamente l'abito è una sorpresa al maggior parte degli sposi, no? Non si va a pensare, però a me è successo, tante volte, che la sposa non ha detto nulla neanche del velo allo sposo. Aveva il velo davanti, è solo che lo sposo non aveva istruzioni di cosa doveva fare, no? Male, male. Perché nessuno gli aveva detto niente. A me può farlo anche il papà, però, il papà che accompagna la sposa. Sì, sì, sì. Però mi è capitato spose che volessero, appunto, lo sposo che toglisse il velo. E io come fotografo, no? Ditto che faccio la navata, avevo il compito di dire allo sposo, se non ce la vuoi di planner, ovviamente, che è sempre meglio. Preparati, alza il velo. Alza il velo, mi raccomando, no? Che se no resta... Che già è un momento di agitazione. Esatto, esatto. Qualsiasi cosa bisogna fare di extra. È un problema. E altri accessori che si mettono in testa? Corone, pettinini, cerchietti, corone di fiori. Adesso, negli ultimi anni, abbiamo visto tantissime spose in stile boho, boho chic, con queste corone di fiori molto naturali, l'effetto un po' hippie, se vogliamo. Quest'anno vanno tanto i dettagli luminosi, i fermagli in stile un po' anni venti, ma non questi anni venti, gli anni venti del secolo scorso, delle cose un po' vintage. Dipende sempre poi dall'acconciatura e dal vestito. L'importante è scegliere l'abito, poi l'acconciatura e con l'insieme si va a scegliere il dettaglio, che è quello che spesso fa la differenza. Un'acconciatura tanto elaborata magari vedrà un accessorio più semplice, un'acconciatura più minimale, più naturale, potrà permettersi un accessorio un pochino più vistoso. Ok, poi sempre sullo stile, esistono abiti da sposa invernali? Invernali? Cinzia, no. No, alla fine l'abito non ha stagionalità, sono gli accessori che poi rendono un abito estivo, invernale. Gli abiti, diciamo che come tessuti, vanno bene tutti per tutte le stagioni. È chiaro che poi da autunno, inverno, ci andremo ad accessoriare con giacchini di lana, piuttosto che pelliciotti sintetici magari, per scaldarci, perché la stagione è chiaramente quello che ama. Anche tra le spose non è mai freddo. No, abbiamo anche spose estive che però si sposano a Cortina, piuttosto che a Tervisio, che già in questo periodo ci stavano chiedendo giacchini di lana. Lana o pelice ecologica, poi la sposa d'inverno è bellissima con l'accessorio, l'accessorio è un elemento in più per creare un bel look. La sposa d'invernale mi è sempre piaciuta moltissimo. È vero. Un po' una biancaneve. Poi, quante persone posso portare alla prova? Cento. Meno possibile. Allora, noi consigliamo di non venire accompagnate da più di tre persone. E tre persone in realtà sono già tante, perché tre persone significa tre pareri. Tre pareri diversi, tre gusti diversi, si rischia di essere condizionate non poco. Magari quando si organizza l'entourage non si pensa a questa cosa, però quando poi ci si ritrova lì, con l'abito addosso, e il pubblico comincia a dire la sua, naturalmente in maniera affettuosa, però comunque esprimendo le proprie preferenze, si rischia di andare un pochino in confusione. Due persone sarebbero l'ideale, la mamma, la testimone, la mamma e la sorella, indifferente, chi è più vicino alla sposa, ecco, indipendentemente dal ruolo. Tre, va bene, quattro, cinque, incomincia a diventare veramente quasi ingestibile. Ma per la sposa stessa, perché noi siamo abituate, possiamo gestire anche dieci persone, quello non è un problema. Avete anche molto spazio. Abbiamo tanto spazio, sì, sì. Per fortuna abbiamo dei bellissimi salotti ampi, quindi non è tanto un problema. Il problema è proprio la questione che la sposa poi si fa condizionare. E anche chi pensa, io non mi farò condizionare, in realtà quando è lì si rende conto che non è proprio così. E poi diciamolo, è bello fare una sorpresa a queste amiche. Cioè ci sta la mamma, ci sta la testimone, perché poi ti aiuterà a costruire tutto il matrimonio. Ma le altre amiche, le cugine, lasciamo che si godano il momento in cui avventreremo. Sono anche delle sue simpatiche, è brava, infatti. Qualcuna aiuta. Si scherza. A me è capitato, a me è capitato tempo fa di vedere una sposa che aveva scelto l'abito tutto da sola. Sì, capita. E quindi, gran carattere, ma soprattutto grande sorprese, grandi lacrime il giorno dei preparativi, perché c'è il giorno del matrimonio, quindi quando si scarta l'abito in questo bellissimo porta-abito con l'appendino, è sempre bello vedere anche la reazione che c'è. Una mamma disperata, magari. Una mamma disperata no. Non l'hai mai vista. No, per fortuna no. Per fortuna. Infatti io so. Quando i giochi sono fatti, sono fatti. E infatti. Bisogna solo dire che è bello, basta. Ma poi, cioè, è impossibile che sia brutta una sposa al giorno del matrimonio, perché anche se non ha una conciatura, un trucco, e direi anche un abito, comunque agli occhi di una che si sta sposando, che, diciamo, è totalmente differente da qualsiasi altro giorno, la stessa persona. È vero. A me piace sempre quando il papà della sposa non vede l'abito. Non vengono quasi mai i papà, è raro. Però, o in foto, o altre cose, tutti i papà, bene o male, ultimamente ho visto che sono riusciti a vedere un po' come lo stile dell'abito. Quindi, a me piace più la sorpresa, no? Quindi c'è quell'emozione anche da parte della sposa e da parte del papà. Ma sì, è più emozionante. La sorpresa gioca un ruolo fondamentale in questa situazione. Io stessa, quando sono invitata ad un matrimonio, negli ultimi anni i matrimoni a cui ho partecipato erano principalmente di spose mie, perciò non avevo la sorpresa. Però ricordo tanti, tanti anni fa, quando ancora non facevo questo lavoro, andavo ai matrimoni e per me il momento dell'attesa in chiesa era emozionantissimo, indipendentemente che si sposasse mio fratello oppure anche un'amica, una conoscente, magari neanche così vicina. Però era proprio un momento indimenticabile, il momento in cui si inizia a sentire il vociare fuori dalla chiesa o dall'entrata passa parola, ecco che stanno arrivando, guardi lo sposo e vedi lo sposo che è sbianca e si piene. E poi l'orgono che inizia a suonare, la sposa che arriva. È una sorpresa fantastica, è bellissima. Perché rovinarla girando la foto via WhatsApp a metà degli invitati? È proprio un gran peccato. Vero. A me fa impazzire quando arriva la sposa che tutti gli invitati, tutte le invitate, soprattutto le invitate, stanno fuori dalla chiesa e io dico andate dentro, aspettatela dentro la sposa. Eh no, poi non la vedo. Stai tutto il giorno, eh sì ma io dovevo vederla. Allora ho trovato questo scamotage che aspetto che arrivi la sposa, scende, tutte le amiche là e dopo via. Andate un po' dentro. Andate. E lì sono tutti abbastanza lì, c'è le regole. Guarda, io tanti anni fa ho avuto l'incarico da parte di una mia cara amica di mandare dentro tutti gli invitati prima che lei arrivasse. Ma ci credi che ho fatto delle litigate? A botte. Ho quasi a botte. Nonostante io dicessi dovete entrare perché lo vuole la sposa, niente. La gente voleva star fuori con le macchine fotografiche. Sì, io... Ti guardi oggi quei cellulari. Io ancora, diciamo, mi è da una parte più semplice, no? Perché sono un po' più istituzionale, diciamo, nel matrimonio, diciamo, di un'invitata. E vedono con due macchine fotografiche e capiscono che... Dovrebbero capire. ...devono fare quello che consiglio caldamente. Però, dall'altra parte, la sento molto più mia perché se cinque invitati stanno dietro la sposa e la sposa entra, io ce li ho nella foto. E quindi io finché non entrano, devo essere lì, no? Bene. Continuiamo. Ci spostiamo adesso non più per le spose, ma per le invitate. Allora, vi faccio due domande. Anzi, va sì, tutte e due, ve le faccio insieme. Allora, come scegliere l'abito da cerimonia se si è invitata a nozze? Prima. Seconda, quali colori vanno di moda per i vestiti da sera e da party? Chi parla? Cinzia, vai. Parlo io. Allora, come scegliere un abito da cerimonia? Ce li dividiamo, io faccio questa. Come scegliere un abito da cerimonia se si è testimoni, se si è damigelle, chiedere il consiglio alla sposa. Quindi capire se la sposa ha un colore che vuole portare avanti nel matrimonio. Chiediamo di non avere più quella tendenza di tutte le damigelle vestite uguali all'americana, come una volta, ma piuttosto di scegliere un colore e sfruttarne le sfumature e di adattare ogni tipo di modello e di colore a una delle proprie damigelle o testimoni che siano. Per quanto riguarda mamma e suocera, un minimo coordinarsi di non finire con lo stesso vestito, lo stesso colore all'altare. Il pesce andrà, no? No, vi prego. E poi per le altre invitate, se si è degli invitati, tra virgolette, comuni, guardare un po' la location dove si viene invitata, che è chiaramente scritta sulla partecipazione, e stare attenta all'orario. Quindi prediligere piuttosto un lungo per un pomeriggio sera e magari una lunghezza per il giorno, anche se dirò che ormai la richiesta è sempre di più per i lunghi, perché c'è poco da dire, ma sono gli abiti più belli. Ok. Intanto, guarda, sono arrivate due più che domande. Infatti leggero. Allora, Cristina, che è una mia ex sposa, e anche Elena, ex sposa. Ciao, anche Giovanna. Anche Giovanna, Giovanna non la conosco, ha scritto all'inizio, quando vedevo puntate in tv delle serie Abito della sposa cercasi e vedevo che fiumi di lacrime pensavo che fossero un po' teatrali, mentre quando ho trovato da voi il mio abito ho cominciato a tremare e poi ho pianto. Bellissimo questa cosa. Sì, è vero, perché in tv sembra tutto esagerato, magari qualche sfumatura in alcuni programmi anche lo è, un pochino tirata, però la verità è che tutte quelle emozioni, tutte quelle sensazioni accadono, anche nella realtà, anche da noi. Così l'emozione del vestito giusto, la delusione per quello sbagliato, la delusione per quello che si credeva potesse essere l'abito perfetto, visto in foto, guardato e riguardato per mesi e poi invece non sta bene addosso, viceversa l'entusiasmo e la sorpresa per un modello che non si pensava di poter indossare e invece sta benissimo e fa addirittura scendere le lacrime dalla gioia, dell'emozione. Quindi tutte queste sensazioni, come dice Cristina, sono reali ed è un momento talmente indimenticabile che fidatevi quando avrete 90 anni e ancora ai vostri nipoti racconterete di quando avete acquistato l'abito da sposa. Così come le mamme e le nonne dei nostri clienti ci raccontano durante le prove la loro esperienza. Questo è un classico, le nonne che raccontano di quando hanno la sarta, perché all'epoca di solito venivano fatte dalle sarte di abiti, quindi ci raccontavano delle stoffe, dei dettagli, della scelta ed è un ricordo talmente vivo che è veramente emozione. Poi abbiamo anche Elena, che bello vedervi tutti insieme, felice di avervi scelto, grazie. Federica Marini, non so se è anche vostra ma è una sposa. Ciao a tutti, ciao Federica. Michele, ridiamoci su, perché se due invitati avranno lo stesso abito diventeranno arci nemiche, se due invitati avranno lo stesso outfit diventeranno i migliori amici. E' vero, è vero. Poi dipende, dipende, perché se le due ragazze con lo stesso abito hanno più o meno lo stesso fisico e sono tutte e due belline, potranno anche andare d'accordo. Ma se una sta meglio dell'altra, lì è guerra. E' la fine. E' la fine, quello c'è poco da fare. Gli uomini, cosa vuoi, si fanno un brindisi e via. Irene invece scrive una cosa interessante. Io sono la conferma che le emozioni delle testimoni durante la scelta confondono. Io avevo scelto un abito che non era lui. Quando sono tornata da sola sono stata certa, certissima di ciò che volevo. È vero, Irene è venuta con i testimoni. Devo dire, è stata una prova molto carina, molto divertente, perché loro erano veramente un bel gruppetto. Però si è fatta un po' condizionare. Infatti ci ha chiamati dopo poco, dopo qualche giorno, ci siamo riviste. Lei era da sola e ha cambiato abito. Un abito che aveva già provato in realtà durante la prova precedente. Però ho avuto bisogno di un po' di intimità per schiarirsi le idee. Succede anche questo. E io invece ai preparativi di Elena ho visto le testimoni che aprivano pian pianino l'abito ed erano lacrime e lacrime di gioia. Perché non lo sapevano poi. Tra l'altro abbiamo una testimona in comune, quindi era anche più bella tutta la scena. Ok, allora, altre domande? Se avete, scrivetele. Se no, vediamo un attimo. Allora. Ah, no, è una cosa che volevo chiedere io. I colori. Colori che voi chiaramente andate più sul bianco. Vi è capitato colori da sposa, chiaramente parlando dell'abito, diciamo, nuziale? Quindi si parla proprio del classico abito principesco, di altri colori? Molto intensi? Allora, altri colori? Beh, c'è il cipria, che è stato protagonista negli ultimi due stagioni. Il cipria con tutte le sue sfumature, da quelle più tenue a quelle magari un po' più forti. In questi anni, abiti colorati, colorati, ti direi di no, però dettagli colorati sì. C'è stata una ragazza di settembre, non so se l'hai fotografata te, che è venuta con una foto di un abito tutto sfumato dal bianco al blu scuro, quindi tutte le sfumature del mare, tutti gli azzurri. Lei ci ha fatto questa richiesta, l'abbiamo presa come una sfida, dove la nostra sarta Elena, guarda, si è superata proprio, e le ha creato un abito completamente sfumato, colorato. Ha fatto una sorpresa a tutti. Ok. Molto bello, è stato veramente un impegno, perché abbiamo praticamente ricostruito l'abito da zero, abbiamo dovuto procurarci le stoffe che non era facile trovare, però si fa, si fa. E poi negli anni, io ho visto, ti parlo di dieci, dodici anni fa, ho visto il giallo, c'è stata un'annata con degli abiti gialli, che sembra un colore difficile da portare, ma abbiamo fatto delle spose stupende. Ricordo in particolare un abito ampissimo, in duchesse e organza, con un cappello di paglia con le rose gialle, veramente molto molto bello. E poi sì, il blu, come diceva Cinzia, gli abiti sfumati, lilla, le annate del lilla, Tiffany. Tutto? Cioè, in senso, gonna, tutto, o dettagli? Guarda, con il lilla abbiamo fatto anche abiti completamente lilla, con il blu principalmente abiti con dettagli, oppure in sfumatura, e con il rosso abiti completamente rossi, e ancora li chiedono, comunque c'è sempre qualche amante con l'abito forte, il nero, ci sono state le annate del nero con abiti, con i dettagli neri, ma anche tutti neri. Io ho fatto una sposa completamente in nero, di grandissimo effetto, molto forte, molto bella. C'è un po' di tutto, però nelle ultime collezioni sicuramente l'Avorio la fa da padrone, insieme al Cipria, direi quasi a pari merito. Allora, leggiamo qua cosa è arrivato. Aspetta che non riesco a tornare su. Ok. La stessa, Stella De Paola, la stessa cosa di Elena è successa anche a me, ma 40 anni fa. Ciao, siete bellissime. Grazie, grazie, sono bellissime. Parlava a me. Grazie, Stella. Di nuovo Cristina, io invece avevo provato 5 abiti con voi, ma nessuna delle tre che mi accompagnavano. Tutte e tre mi hanno chiesto, in momenti diversi, se potevo provare quello che poi ho acquistato. Tenendo conto che io ho preparato le nozze in un mese, come Piero ben sa, ho una domanda. colore vestito della mamma della sposa, è vero che solo la mamma dello sposo può, può il blu? Avete capito il, la domanda è, il colore della mamma dell'abito della sposa, dello sposo, scusa. Non è per forza il blu. No. Che si metta quello che vuole, quello che le sta meglio. E' chiaro che il blu è uno dei colori che... Ma quello che vuole è Cintia. No, no. Bianco no. Bianco e nero no. No, ma nel senso, è inutile costringere la mamma dello sposo per forza il blu. Se sta meglio in verde, che si mette in verde. Sì. Sono un po' così. L'importante è che sia, che non ci sia un effetto da pugno nell'occhio, cioè che siano colori che stanno bene in sfumatura insieme. Ma per forza, un colore per forza no. No, noi vendiamo un po' di tutto, anche come sfumature. Non c'è un obbligo. E consiglierei anche il telefonarsi, come dicevi prima, tra consuocere per evitare. E' raro, è raro che scegliano lo stesso vestito, perché ci sono sempre gusti diversi, fisicità diverse. Però nel dubbio, meglio sentirsi, meglio confrontarsi un attimino. Quello sicuramente. O qui c'è una domanda sullo sconto. Sì, leggevo di Daniela, che tante spose vedono come una forzatura, e lo sconto se lo compri adesso, può essere controproducente. Ma allora, guarda, noi abbiamo una scontistica riservata a chi sceglie l'abito alla prima prova. Siamo un'attività commerciale, come tante altre, e come qualsiasi attività commerciale, come qualsiasi marchio, brand, che vende online, piuttosto che con il negozio fisico, abbiamo delle promozioni, delle scontistiche. sinceramente non lo trovo controproducente, è un'opportunità, non è un obbligo. Nessuno è mai stato obbligato ad acquistare in un determinato momento. fare una prova a spose significa comunque fare una prova di due ore, una cosa impegnativa, in cui vengono provati tanti abiti molto delicati. È inevitabile che ci faccia piacere dare un regalo a chi sceglie dopo questa prima prova, che comunque non è una prova da cinque minuti, ma è una prova, appunto, come dicevo, impegnativa. Viviamo in un'era di promozioni, basta vedere quanti di noi comprano il Black Friday, perché ci fanno degli sconti pazzeschi in un giorno, piuttosto che due giorni. Io stessa. Ho il divano comprato oggi, per forza oggi. Scade oggi, scade stasera. Perché se no domani no. In questo contesto, sinceramente, non trovo nulla di sbagliato nel voler fare un regalo, perché uno sconto è un regalo, perché sicuramente è una parte che noi togliamo dal nostro guadagno, è inevitabile. A chi ci premia, premia la nostra, ci premia, ci dà la sua fiducia e acquista l'abito. Questo non toglie che nell'arco di qualche giorno, se ci sono dei ripensamenti, si può cambiare il modello. Questo lo diciamo anche dai clienti. Quindi no, sinceramente non trovo che ci sia alcuna forzatura, non c'è alcun obbligo, è un regalo, è un'opportunità come tante altre e come milioni ce ne sono ogni giorno nel mondo da parte di tutti, di chiunque venda. Sì, poi voi non è che fate solo una prova, fate anche una sorta di consulenza. Infatti, bravo. In base alla tipologia di persona che avete davanti, sia fisicamente, ma anche di cosa vuole del suo matrimonio. Quindi penso che sia ancora più sensato. E' una cosa che facciamo in maniera totalmente gratuita, perché una sposa che entra senza magari mai aver provato prima, dopo due ore esce con l'abito, giusto, ci auguriamo, ma anche se non dovesse trovare l'abito, perché ripeto, nessuna è obbligata ad acquistarlo, uscirà con un bagaglio di informazioni, di esperienza, molto, molto importante. Avrà scoperto cosa le sta bene, cosa le piace, cosa non le piace, cosa vuole mettersi piuttosto che cosa non vuole mettersi. Tutto questo a titolo gratuito, perché le nostre prove comunque sono gratuite, ad eccezione delle prove del sabato, per le quali chiediamo comunque un contributo minimo, per il semplice fatto che il sabato è una giornata talmente richiesta che dobbiamo fare una scrematura. Ecco tutto qui. Ok. Allora, Lucia ci scrive due domande. ci stavamo arrivando, per la mamma della sposa? Per la mamma della sposa, se ci sono abiti per la mamma della sposa. Cinzia? Che abiti ci sono per la mamma della sposa? Ma vige un po' la regola della mamma dello sposo, cioè vediamo un po' sicuramente l'insieme, quindi le due consuocere che si facciano un colpo di telefono, se si conoscono, se sono in buoni rapporti, se no fanno da tramite gli sposi. e quindi si crea un attimo un look d'insieme delle persone che saranno più vicino agli sposi all'altare. E poi anche qui, no il bianco, no il nero, preferibilmente anche neanche il rosso, perché è un colore tanto importante e protagonista che distrae un po' l'attenzione poi dalla sposa. Per il resto, che si metta un po' quello che vuole, un po' quello che le piace, una fantasia, una tinta unita, che vada con la sua sposa, con la sua figlia, con la sua figlia, se vuole anche col marito, e che si faccia un po' consigliare, e che se no che si affidi a noi, a noi è allo specchio che siamo le persone più sincere. Sì, perché aggiungo che appunto voi a pochi metri di distanza avete un atelier dedicato alle spose e un altro dedicato agli altri invitati o comunque in base alle serate che si possono fare al di fuori del matrimonio. Una domanda, quali sono i colori vietati per le invitate a nozze? Sempre bianco, no direi? Il bianco sì, Sì, il bianco direi assolutamente vietato. Tutto il resto in realtà no, perché allora il nero è vietato se si sceglie un abito tutto nero completamente, senza alcun accessorio un po' più vivace. Allora in quel caso lì forse è meglio evitarlo. Il rosso è un colore molto forte, molto d'effetto, però è un colore anche molto allegro, molto gioioso. In quel caso magari si può chiedere alla sposa se gradisce o se magari preferisce che si eviti perché magari si può diventare un po' troppo protagonista. per il resto via libera, via libera a qualsiasi colore. Quest'anno vanno tanto di moda anche le fantasie, floreali, stampate. L'invitata deve essere elegante, deve essere bella. L'unica cosa vietata in assoluto, secondo me, è la sciatteria. presentarsi a un matrimonio vestiti male o senza aver dimostrato di aver messo della cura nel presentarsi bene. Perché quando si organizza un matrimonio, tu lo sai, vedi anche con le spose, c'è talmente tanto impegno, c'è talmente tanto lavoro dietro ad ogni matrimonio, lavoro che due ragazzi che si sposano fanno con piacere, con gioia. Il modo migliore per premiarli, oltre al regalo, è anche presentarsi in maniera impeccabile alle loro nozze. È un bel segno di rispetto. Sì. Io il mio invitato in polo non me lo diventerò mai. Giuro. Vogliamo il nome. Va. Ne avevo anche uno in Bermuda. Consolati. C'è sempre qualche invitato, un po' pittoresco. Provvedi che ce lo ricordiamo? Non si dimentica. Sei caro. Si segna. Bene. Ciao Denada. Ciao Denada. Ciao Roxanne. Ciao. Abbiamo risposto. Sì, abbiamo risposto. Anche ciao Leo. Leonardo. Ciao. Ciao. Ciao Leo. Allora, mi sembra che ci fosse un'ultima domanda, quindi scrivete pure se avete altre domande, mi raccomando. Allora, questo è dedicato appunto al tempo che stiamo vivendo. Cosa succede al mio abito se mi sposo in autunno e non più in estate? E aggiungerei qui anche la domanda ironica che era stata fatta, se mangio lievito e lievito io in questi mesi di, mesi, giorni, settimane di quarantena, cosa succede all'abito? Vai Cinzia. Allora, qua entrano sempre in gioco le sarte. Io ti ho ascoltato nell'altra conversazione che hai fatto con la wedding planner, dove dicevi che appunto ricordavi di spose che hanno scelto l'abito non incinte e poi si sono sposate col pancione. Ecco, in quel caso, se il pancione è di pizza o di altro, la sarta comunque si adegua e segue le forme nei limiti chiaramente del possibile. E poi insomma è aprile, da qui a ottobre c'è il tempo per ingrassare ma per dimagrire. Dai, faremo la corsetta intorno al tavolo fra un po'. E poi quello che dicevamo prima, cambiano gli accessori, essenzialmente quello, andiamo verso una stagione un po' più ventosa, ci immaginiamo un po' la barcolana e la bora, verso l'autunno e quindi metteremo una stola di lana, piuttosto che un giacchino di, non in quel caso di pelliccia, ma sempre una lanetta o un piccolo bomberino, insomma qualcosa per proteggersi dal fresco. Tutto qua. La soluzione c'è. C'è sempre. C'è sempre una soluzione. Almeno noi ce la mettiamo. Noi ce l'abbiamo. Bene. Ok, allora, le domande che erano arrivate sono tutte quante, le abbiamo tutte quante, ah no, ah no, sì, quello dell'ingrassare l'abbiamo già fatto, tutte le domande le abbiamo risposto, ok? Vi è capitato, giusto una curiosità mia, in questi spostamenti di matrimoni, eccetera, vi è capitato persone che spostavano il matrimonio già tanto in là o sulle matrimonie di aprile e magari maggio? È capitata in questi giorni qualche sposa, sì, qualche sposa di giugno, una sposa di settembre, che ha preferito rimandare perché dice che il catering ha posto delle problematiche. non so come sia possibile, nel senso che i catering, se sono stati prenotati, devono garantire la data, io credo, ecco, però ecco, solo una sposa di settembre, per il resto qualche sposa di giugno, soprattutto dei primi di giugno, ha scelto di rimandare. Io credo anche per vivere un po' questa attesa in maniera più serena, perché sicuramente non possiamo sapere quando rientreremo e quando sarà possibile ritrovarci, più che altro, più che rientrare al lavoro, ricominciare la vita, quando sarà possibile riprendere la vita di prima, al 100%, e sicuramente un matrimonio è un evento che fa piacere condividere con gli altri, in maniera serena e spensierata, magari non tutti con le mascherine. Sì, a un metro di distanza, ci vogliono le location gigantesche dopo. Lo scambio degli anelli, a un metro di distanza. Sì, 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 che è capitato, ci sono, adesso è uscito l'hashtag Corona Wedding e in giro per il mondo, in Italia sono vietati, ma in giro per il mondo ci sono tanti matrimoni con mascherine. Vedi, beh, insomma è un segno dei tempi, forse sarà la storia. Sì, se due persone hanno la necessità di sposarsi per motivi legali o comunque magari in posizioni di cultura o altro, senza dubbio si fa. si fa. Ovviamente se la legge lo permette. Ma se no, diciamo, meglio attendere, no? Una nostra sposa di giugno, l'ho sentita in questi giorni, ha detto che vorrebbe fare comunque il matrimonio, se sarà possibile, scremando di molto gli invitati e poi si ripropone di fare una bella festa a settembre con chi non è potuto venire. Così metterà il vestito due volte. Questa è una bella idea. Curvata. Ma si riesce a fare, cioè, questo non lo so. Sì, fa un matrimonio con testimoni e magari da famiglia. Una cosa proprio, se sarà possibile, perché adesso non credo se è possibile. No, no, lei parlava di giugno. perché ieri sono andato a fare delle riprese in una chiesa in vista di Pasqua per queste dirette Facebook e appunto ci sono delle regole molto, molto ferre sul numero di persone, ma si parla tipo di cinque persone in una chiesa di mille metri quadri, quindi è comunque a porte chiuse, quindi in realtà è un po' difficile. Sì, è difficile. Bene ragazze, com'è andata? Voi siete abituate, voi siete abituatissime. Ma non in diretta, eh, non in diretta, perché di solito registriamo. Mille, mila prove, tu non hai idea di poter dire così. Ci manca un po' invitate a nozze, ci manca la nostra rubrica. Lo faremo da, sì, dalla porta della camera con i vari pigiami, le varie tute. Potremmo fare, invitate in cucina faremo, visto che siamo, ah sì, siamo ai fornelli. Bene. inviteremo qualcosa. Sono contento che ci sono state tante, tante domande, e che siano state utili, sia qui in diretta, che anche per, che sono arrivate. Se avete un attimo, io ricordo quali sono i prossimi appuntamenti. Intanto, se avete piacere di sentire l'intervento che è stato fatto due giorni fa con, con Gloria Bettuzzi di Gloria Wedding and Events, le trovate sulla mia pagina Facebook, che appunto, la vedete qui, diciamo, anzi, di qua, ok, in alto, WeMage, mentre, lunedì, ci sarà l'appuntamento con, Margherita Redoni di Villa Bonomo, in cui si parlerà di, di location di matrimonio, appunto, quindi non solamente su Villa Bonomo, come anche con voi, non abbiamo parlato solo di qualcosa di blu, ma appunto i consigli generici. Poi, mercoledì, come dicevo prima, Federica Miani per acconciature e trucco, poi, ci sono due nuovi appuntamenti che mi sono arrivati in questi, in questi giorni. Allora, giovedì, devo ancora avere la conferma al 100%, ma, sempre le due e mezza, ci sarà Iagoda di Fioriada, con cui, magari ci allaceremo anche alle domande su cosa si mette in testa alla sposa per l'abito. E venerdì, invece, Federico Beltrame, che, ci parlerà di, di catering, ok? Quindi, abbiamo una settimana bella piena, quindi, se avete piacere, mettetevi, mettete like alla pagina WeMage, così potete vedere le prossime. Torniamo a noi. Grazie mille, ragazze. Grazie. Grazie veramente. Io vorrei concludere con un messaggio per tutte le spose che sono in ansia in questo momento, perché avevano i matrimoni programmati ora, devono spostarli, quelle che ce li hanno a giugno o luglio. Non preoccupatevi, perché nonostante il dispiacere di dover rimandare, questo sicuramente nessuno di noi avrebbe voluto che accadesse, però, quando vi sposerete sarà tutto ancora più bello, perché tutte le cose che si attendono tanto e che poi trovano anche degli ostacoli sul percorso, sicuramente si vivono poi in maniera ancora più gioiosa. ci sarà più voglia di festeggiare, più voglia di essere belle, di abbracciare tutti, di brindare, di far festa e noi saremo felici con voi, perciò non disperate, siamo tutti sulla stessa barca in un modo o nell'altro, ci riprenderemo, ricominceremo tutti insieme e sarà veramente festa grande, grande, grande. Sì, poi si è anche visto questi fornitori del matrimonio, di tutte le tipologie, quanto vengono anche incontro, perché siamo tutti che vogliamo in un modo o nell'altro far finire questa situazione e venire incontro appunto agli sposi. Sì, esattamente. Ultimo saluto a Cristina Belullo. Ciao Cristina. C'è il mio fotografo del cuore alle due consiglieri del matrimonio. Grazie a tutte. Ciao Lucia, ciao Lisa. A Cristina dobbiamo fare un applauso perché lavora nella parodologia e quindi insomma veramente brava. Grazie perché sono quei mestieri che in questi giorni stanno tenendo su tutto. Sì, sì, infatti, infatti, grazie mille. Bene, io finisco dicendo che Cinzia aveva detto assolutamente un'ora a parlare, mamma mia. È volata. 52 minuti e 40. No, vi la verità, 52 minuti e 40 che mia figlia è chiusa in camera. È questa cosa più lunga. Anche i miei, che ho legati e lavagliati. Ok. Con i biscotti la mia. Allora, bene, ancora saluto a Federica e Roxanne. Ciao Federica, ciao Roxanne. Bene, grazie ragazze. Grazie. Vi ringrazio. Grazie a voi. Ci sentiamo a tutti quanti. A presto. Ciao. Ciao, a presto. Ciao.